Sì, pronti. Sabatino, allora, un'impressione su questo corso. Che cosa hai imparato in particolare? Cosa ti ha colpito maggiormente? Allora, mi ha colpito quell'incertezza che le zone buie avevo, avendo già l'esperienza sui compi e cos'è, e adesso sono diventate chiare. Le zone d'ombra si sono schiarite, grazie alla collaborazione di Valentina e di Lucia. Meravigliose. Due bravissime insegnanti. E grazie, allora. Prego, grazie.